Rischia di saltare l'annuale raduno nazionale di preghiera dei Sinti nel piazzale di Piacenza Expo. La ragione sarebbe da ricercarsi nell'ostilità della Lega Nord. Così, a pochi giorni dalla data di inizio prefissata, il 15 maggio, esplode la rabbia della comunità contro il comune che si sente presa in giro. Il raduno, evento che richiamerebbe in città fino a un migliaio di persone, sarebbe in programma dal 15 al 29 maggio, ma risulta al momento congelato. A fine marzo la comunità aveva sottoscritto con Piacenza Expo un contratto subordinato agli accordi per l'occupazione dell'area con il comune, socio di maggioranza del lente fieristico e dunque titolare a concedere il via libera definitivo. Tale contratta è stato però disdetto pochi giorni fa. Ufficialmente gli organizzatori non avrebbero fatto pervenire al lente fieristico la documentazione idonea entro l'ultima data utile, quella del 30 aprile. Ufficiosamente però filtrano indiscrezioni legate a uno stop al raduno imposto da un'ala del carroccio che non ne vuole sapere di ospitare i sinti sul territorio piacentino, un caso politico che sta scuotendo la maggioranza. Tra questioni burocratiche varie e rimpalli sulle responsabilità del soggetto chiamato in ultimo a dare l'ok si sarebbe creato un impasse che fa infuriare i sinti i quali hanno chiamato in soccorso la prefettura ed oggi è atteso proprio un incontro tra la prefettura e il comune per districare la situazione.